E qui sono arrivata e l'ho trovata già seduta, pronta, sono felicissima e onorata di avere ospite oggi una donna straordinaria che è diventata una leggenda per i suoi traguardi nel nuoto. Pensate, negli anni 70 divenne campionessa di questa disciplina che non aveva mai visto primeggiare gli azzurri né a livelli olimpici e né mondiali. E con noi Novella Caligaris. Buongiorno, benvenuta. Io vorrei un applauso, questo studio, vorrei un applauso caloroso. Grazie. Grazie mille. Grazie per essere qui con noi, ma prima di iniziare io vorrei vedere un video che ti rappresenta. Bene. Vediamolo, vediamo. Grazie a tutti. 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 Che effetto le fa rivedersi? Beh, devo dire, mi ricorda la mia adolescenza. Uff, l'unica cosa che vedo è che non sono cambiata molto. È uguale. È uguale in una forma incredibile, strepitosa, perché so che si sta preparando qualcosa di importante. Ma questo lo diciamo dopo. Lei ha iniziato prestissimo? A cinque anni, all'età di cinque anni? No. E a sette anni andava già verso l'agonismo? No, e allora diciamo che i miei genitori, essendo di origine triestini, però con origini austro-ungarici, ci hanno buttato in acqua, sì a me che mio fratello, piccolissimi, anche perché aveva una barca, quindi era un fatto proprio di sopravvivenza. Naturale. Quindi aveva iniziato già un anno, noi non è che nuotavamo, stavamo a galla. Poi si sono trasferiti a Padova, dove io tra l'altro sono nata, e mio fratello ha iniziato a nuotare. All'epoca a Padova si potevano fare due cose, un rugby o un nuoto. E quindi, siccome noi abbiamo avuto la fortuna, che un grande amico di papà, che era Ivone Grassetto, l'impresa Grassetto, che ha costruito tutte le autostrade d'Europa, direi anche del Mediterraneo, avevamo costruito un centro a Padova che era straordinario, perché era a livello dei college americani, avevamo piscina coperta, scoperta, addirittura c'era una piscina per i bambini con gli affreschi, pensa. E siccome io facevo tutto quello che faceva mio fratello, ovviamente lui è stato iscritto al nuoto e io mi sono buttata dentro. Abbiamo una foto con tuo fratello Mauro, in cui vi vede insieme in vasca, ecco. Che ricordi hai di tuo fratello? Eh beh, mio fratello era l'altra parte di me, ecco. Che è venuto a mancare in un incidente. In un incidente, sono 23 anni, ma non passa. Non passa, è un dolore troppo forte. Eh sì. Se dovessi dire qualcosa per ricordare tuo fratello, quale aggettivo useresti? Eh non lo so. È bello vederti commuovere. Beh, mio fratello era tutto, era l'altra parte di me. Era una persona generosissima, pazzarello, che aveva trovato, era un tomber de femme, che però poco prima di morire… un tomber de femme. Sì, era molto bello. E poi molto spigliato, simpatico. E poi aveva trovato… non mi aveva mai presentato nessuno. E proprio la mattina, prima che succedesse l'incidente, mi aveva detto ti porto una persona. Mi rimasi. Oddio, ci siamo. E invece poi è successo qualche successo. Al suo funerale c'erano almeno dieci vedove. Quindi anche quello è stato un po' il suo modo di essere se stesso. Era un grandissimo talento, molto più di me, solo che faceva tre bagni a settimana, fumava 40 gulwaza al giorno. E invece tu quanto stavi in piscina? Quanto ti allenavi? Io avevo una mentalità totalmente opposta alla sua, cioè del tipo che se io faccio una cosa la devo fare bene, se no ne faccio un'altra. Allora nel momento in cui stavo in piscina io mi allenavo. Poi ho avuto la fortuna di avere un personaggio stratosferico come Bubi Dennerlein, che non era un allenatore, è un filosofo dello sport, il quale mi aveva perfettamente capito? Io all'epoca ero la più schiappa della squadra. La mia squadra era fortissima. Mio fratello era già in nazionale e tutto. E lui mi capì immediatamente e secondo me ero pestifera mi sfidava. E ai primi campionati italiani, avevo 12 anni, io vedi che mi faceva fare gli 800 stile libero. E io dissi perché mi fai fare gli 800? Mi fa fare, per carità gli dà o del lei. Perché mi fa fare gli 800 stile libero? Dici così stai 12 minuti zitta. E questa è stata la cosa. 12 minuti zitta? Ma perché ti definivano, ti chiamavano bambina cattiva? Perché ero pestifera. Cioè io sono cresciuta all'ombra di mio fratello, ero quindi tutti amici maschi. E io volevo competere con loro. Quindi avevo poche bambole e più giochi maschili. Perché per me quello era il modo di giocare. E poi ero esuberante, ero... non stavo mai zitta. Eri esuberante perché dovevi anche affermare la tua personalità da seconda figlia? Sì, poi ho avuto diciamo anche una madre che era tutto fuori che sportiva, nel senso che comunque lo sport era nella sua educazione eccetera eccetera, però lei amava la cultura, l'arte e quindi il fatto che io facessi questa cosa così, infatti mi diceva che l'acqua mi ossidava il cervello. L'acqua ti ossidava il cervello? Come si chiamava a tua madre? Nella. Nella. Era una bellissima donna. E aveva tutti altre esperienze, altre motivazioni. Mentre mio padre, no mio padre era... Il tuo padre ti ha seguito proprio. Mio padre mi ha seguito. Mi ha stimolata? Stimolata no, mi ha seguito, mi ha secondata. Ti ha secondata. Quando io ho fatto il record del mondo, in tribuna c'era mio padre, mia madre stava a Siracusa a vedere i balletti di Bejar. E io gli telefonavo, non c'erano i telefoni, ma sai ho vinto, ho fatto il record del mondo. E lei ha detto brava tesoro, ma non sai cosa ti sei persa? Quindi questa era la sua mentalità. Chi ti manca di più? Mio padre. Tuo padre. Tra i due mio padre, cioè io ero molto simile. Mia madre è stata una donna straordinaria, ma con la quale ho fatto molta fatica. Mentre con mio padre bastava un'occhiata. Se io ti dicessi 30 agosto 1972, che data ti viene in mente? Guardiamola insieme, così te la ricordiamo. Sì, perché io non mi ricordo le date tranne una. Te lo ricordiamo, no? Per l'Italia del nuoto, grazie alla Mingherlina ragazza di Padova, arrivano le prime medaglie della storia olimpica. Novella non è per niente a disagio di fronte ai colossi americani e della Germania dell'Est. La campionessa azzurra conquista una medaglia d'argento nei 400 stile libero e due medaglie di bronzo negli 800 stile libero e nei 400 misti. Se l'hai ricordata quella data adesso? Sì, sì. Che cosa ha detto? Ho sentito che diceva qualcosa quando guardava quelle immagini. La premiazione era dei 400 misti, perché Bubi, siccome io feci i 400 stile libero, poi... Per il bronzo, no? Il bronzo erano i 4 misti, sì. Io avevo fatto l'argento nei 4 stile, poi devo fare gli 8, che erano più o meno la mia gara. Siccome c'era troppo distanza, aveva pensato che devi farmi fare un'altra gara in mezzo e io arrivai terza, proprio perché non ero convinta. Ma ti sei resa conto, adesso ti do del tu, del lei, sono molto imbarazzata da questa presenza così forte, piena di tutto, di dolcezza, di forza, quindi sono veramente attratta e la ringrazio per essere qui oggi. Si è resa conto che in quel momento stava scrivendo proprio la storia di questo sport? No. Se ne è resa conto? No. No, io avevo i miei obiettivi e pensavo solo a quelli, cioè di raggiungerli e soprattutto di fare quello che Bubi mi chiedeva. Però non mi aveva chiesto di arrivare sul podio, mi aveva chiesto di entrare in finale. Infatti il più emozionato dei due era lui, che mi continuava a dire prima delle finali, non ti preoccupare, quello che devi fare l'hai fatto, dico io sono tranquilla. Io avevo una capacità di isolarmi prima della gara, anche se c'era l'inferno intorno. Come faceva? Perché faceva discipline di meditazione? No, no, proprio naturale. No, no, proprio naturale. Dai tempi nostri non c'erano tutte queste cose. E riusciva a estragnarsi? Io dormivo prima delle gare. Ah, dimmi? Tra la batteria e la finale c'era tutto da esserci l'inferno. Dipende da quanto tempo avevo a disposizione. Ma anche dieci minuti e un quarto d'ora? Sì, sì. Ma io anche adesso dormo a comando. Sai che questa cosa ce l'ho anch'io quando sono in teatro? A comando. A comando perché è il modo per ricaricarsi. Sì, sì, sì. Ed è anche un ricaricarsi proprio sano. Anche poco tempo, ma si rimette al mondo, no? Si azzera e si ricomincia. In un'intervista il messaggero ha detto Monaco cambia non solo la mia vita, ma apri una nuova strada per il nuoto italiano. Si comprese che non serviva essere grandi e grosse per essere competitive. Io ero piccola e leggera. Proprio la ragazza della porta accanto. Sì, perché tutti dicevano appunto che il modello era quello anglosassone piuttosto che americano o australiano. C'era addirittura allenatore delle donne. Io mi sono sempre allenata con Bubi, quindi con l'allenatore dei maschi. Anche lì, voglio dire, è sempre seguito quella strada. Ma che diceva che noi avevamo, che noi non potevamo mai arrivare a dei risultati perché eravamo di una razza inferiore. Una razza inferiore, sì. Lei è riuscita a ottenere questi risultati in un momento proprio difficile per le donne. Sì, però io credo anche che sia stato importante anche smitizzare che il nuoto faceva le spalle larghe, che ci volevano i muscoli come carnera. Allora, se questo fosse vero, avremmo risolto i problemi del racchiettismo nel mondo, no? Invece il nuoto ha una serie di piccoli... Certamente se hai le spalle larghe, se hai un fisico idrodinamico ti aiuta. Però un corpo immerso nell'acqua ha una sua specificità. Quindi ognuno ha il suo stile. Tanto è vero che la grande capacità di Bubi è stata quella di non correggermi ma di adattare la mia nuotata al mio fisico. E oggi è una cosa che si fa. Non c'è lo stile. Una regola. Non c'è lo stile. C'è lo stile del singolo. Ma questo vale un po' per tutti gli sport. Perché ognuno siamo, diciamo, unici, no? Certo. E quindi questa unicità va difesa, va in questo senso. Poi c'è il discorso della squadra. Io parlerei con lei per ore. Intanto ci fermiamo proprio un minuto perché poi dopo la devo consegnare al marzulliere. Al grande marzullone, al marzulliere. Ma restate lì, proprio un minuto. Un minuto, torniamo subito. Posso fare il marzulliere! Brava! Novella, lei ha scelto non a caso il tema lacrime e sorrisi. Lei prima ho visto che è arrivata attraverso i suoi occhi qualche lacrima. A volte le lacrime possono essere anche dei sorrisi o no? Si piange anche per gioia. Non è che si piange solo per dolore. Però la vita è fatta, come dire, di un'alternanza. Cerco di avere più sorrisi che lacrime. È vero che non c'è felicità e quindi non ci sono sorrisi senza rinunce? No. Non ci credo. Io onestamente di rinunce non ne ho fatte. Ho fatto quello che volevo e quindi non ho rinunciato. È ironica? Sì e no. L'ironia, secondo lei, è il privilegio delle anime ferite? Ma non lo so. A volte l'ironia può essere anche pungente. E allora quella non mi piace. Novella, lei è felice? Sì. È meglio chiedersi che cos'è la felicità o chi può darci la felicità? Io penso che la felicità innanzitutto la dobbiamo trovare dentro di noi. Perché se non ti vuoi bene, perché gli altri te ne dovrebbero volere. È possibile, secondo lei, poter dire la verità senza far piangere nessuno? No. Ed è vero che le lacrime d'amore, a proposito di lacrime, non sono mai ridicole? No, però se si potessero evitare sarebbe meglio. Lei è una donna di successo. Chi è di successo ha ciò che vuole e l'uomo felice è quello che vuole ciò che ha. O la donna felice, ovviamente. Io sicuramente sono felice, ma guardo sempre avanti. La mia vita è fatta di sfide. E quindi penso al presente. Forse il mio difetto è di non godermi abbastanza il presente, pensando sempre che c'è qualcosa da fare dopo. Quante volte dovremmo sorridere in una giornata? Mille. Si può piangere per una donna? Si può piangere per un uomo? Purtroppo sì, non si dovrebbe. Qual è stato il momento nel quale lei ha dovuto a che fare con tante lacrime? Qual è stato il momento nel quale lei ha dovuto a che fare con tanti sorrisi? Beh, con tante lacrime l'ho già detto. È stata la mancanza di mio fratello, la perdita di mio fratello. Il sorriso è stata la nascita di mio figlio, che è stata la gioia più grande che batte ogni record del mondo. Comunque lei ha un sorriso bellissimo. Meraviglioso. Guarda, c'ha ragione Gigi. Novella, io vorrei ricordare che per i 50 anni del tuo record del mondo negli 800 stile libero ti regali la traversata dello stretto di Messina. Allora. Quando accadrà? Settembre? Il 9 settembre, perché è il 50esimo anniversario del mio record del mondo. Ho pensato cosa fare. Poi invece che fare una cosa probabilmente autocelebrativa, nel senso che me la godevo solo io e basta, ho pensato di, siccome sono stata eletta presidente dell'associazione Olimpici Azzurri di tutti gli sporti di tutte le epoche, per far conoscere ancora di più questa associazione ho deciso di fare questa impresa, Messina Reggio Calabria, per le correnti. E io ritorno in acqua dopo 50 anni. Quanto si sta allenando? Allora, dopo 50 anni io ho ripreso ad allenarmi e finora ho fatto 14 allenamenti. Mamma mia, noi seguiremo questa impresa, eh? Però sono già arrivata a 3,5 km, ma devo arrivare a 6, perché lì la distanza è 3,5 km, ma ci sono le correnti e quindi... Bocca al lupo. Non solo un bel sorriso, ma anche un bel taglio di capelli. Sì. Le posso salutare? Grazie. Grazie infinite. Bocca al lupo. E adesso voglio leggere le prime righe di un libro bellissimo.